Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. Apriamo questa edizione del nostro notiziario parlandovi di una infrastruttura che si annunciava da completarsi entro il 1973 stiamo parlando dell'autostrada Siracusa-Gela. Ieri a Rosolini una riunione tra i sindaci coinvolti nel tratto autostradale e il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Sentiamo. Un importante incontro si è svolto ieri presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane a Rosolini. Il presidente del CAS, Rosario Faraci, ha incontrato i sindaci dei comuni di Ragusa, Modica, Santa Croce, Camerina, Comiso, Acate, Vittoria, Rosolini e Gela per fare il punto della situazione sul completamento dell'autostrada Siracusa-Gela. Domenico Messinese e gli altri primi cittadini presenti alla riunione hanno chiesto al Consorzio per le Autostrade Siciliane la redazione del progetto esecutivo dell'asse che va dalla città del Golfo fino a Modica per completare un iter che si sarebbe dovuto ultimare nel 1973. Tutti i sindaci, i sindaci della zona sud si sono riuniti in modo tale da fare sentire un unico documento al Ministero dell'Infrastruttura per poter tenere in conto il completamento di questa opera, un'opera che vi ricordo che doveva essere completata nel 1973 e che ad oggi non è arrivata nemmeno alla metà di quello che dovrebbe in realtà essere. Quindi oggi ci siamo riuniti per far capire che questa non è un'opera che interessa una singola città ma che interessa diversi comuni, anzi interessa si può dire tutta la Sicilia perché è un'infrastruttura importante per la zona sud che servirà per rilanciare sia l'economia a 360 gradi, non veloce a turismo, produzione agricole e quindi per consentire ad avere un asse veloce che è importante in una società moderna come quella noi siamo. Il progetto verrà fatto dal Consorzio Autostrade Siciliane il quale fra le altre cose è quello che ha progettato il progetto esecutivo delle opere in atto che devo dire che sta andando abbastanza generalmente infatti nei prossimi mesi si aprirà un altro troncone dell'autostradale che da Siracusa deve arrivare a Gelo. Attività anticrimine di polizia amministrativa, controlli e lidi balneari alle discoteche il bilancio degli ultimi giorni del commissariato di Gela in questo servizio. Sentiamo. Tre persone arrestate e due denunciate il bilancio dell'attività degli ultimi giorni del commissariato di Gela diretto da Francesco Marino in manette Calogero Di Pietro, 66 anni, dovrà espiare 15 giorni di reclusione per minacce Salvatore Cannizzo, 53 anni, dovrà scontare tre mesi di carcerazione per estorsione aggravata per fatti commessi sino al dicembre del 2004 Dusan Radosav Jevic, serbo di 34 anni, si trova ai domiciliari perché è rientrato in Italia prima dei 10 anni, non ottemperando al decreto di espulsione dal territorio italiano un 35enne è stato denunciato per ricettazione, un ragazzo di 25 anni per trasporto e possesso di un'arma o oggetto atto ad offendere ed evasione. Inoltre gli agenti di polizia dell'ufficio amministrativo e sociale nell'ambito di specifici servizi hanno effettuato controlli e lidi balneari ai locali di intrattenimento con serate danzanti per contrastare illeciti amministrativi e attività abusive anche con l'impiego di personale specializzato della squadra nautica unitamente a personale del 113 Sono state controllate 15 attività, contestate 4 infrazioni al testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza 2 infrazioni per attività danzante oltre l'orario consentito e 2 infrazioni per attività danzanti senza la prescritta licenza 35 persone controllate, l'attività sarà ripetuta per tutta la stagione estiva È prevista dal 20 al 30 luglio prossimo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gera la presenza del camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ci si potrà presentare anche senza specifico invito l'esame infatti verrà effettuato ugualmente Contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon L'iniziativa dell'ASP2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'ASP L'ennesima emergenza rifiuti in città al centro della puntata speciale di Agoranda tenonda ieri sera spunti e dati interessanti e importanti nel corso dell'edizione estiva del nostro rotocalco settimanale i dettagli in questo servizio della nostra redazione Così come le epidemie cicliche tipo le influenze di stagione che ogni anno puntuali come un orologio svizzero si ripresentano anche le emergenze estive dei rifiuti sono diventate un appuntamento fisso per i poveri gelesi Arriva l'estate ed ecco che magicamente compaiono i cumuli di spazzatura ad ogni angolo della città Il comune denominatore è sempre lo stesso ossia la chiusura della discarica di timpazzo ordinata dalla regione siciliana Lo scorso anno, e fu il TAR a San Cirlo, la chiusura risultò assolutamente immotivata ma questo dettaglio, che dettaglio non è qualcuno in questa disgraziata città ha fatto finta di non capirlo e soprattutto è stato bravo a non farlo capire alla cittadinanza Quest'anno il problema non è stato solo locale l'intera Sicilia infatti ha subito gli strali delle scelte bizzarre di chi governa Palermo e così la nostra bella regione è stata ancora una volta deturpata sotto una montagna di spazzatura proprio nella stagione estiva che per la vocazione turistica che è naturale di questa bellissima terra dovrebbe produrre i frutti migliori in termini di immagine e di crescita economica ed invece il dramma dei rifiuti a sommergere città e contrade l'ha fatta ancora una volta da padrona ma guai a far dire ai pasdaran del potere che la colpa è di chi ci governa a Palermo si rischia la lesa maestà poi certo scendendo di grado e di responsabilità ci sono anche le colpe delle amministrazioni comunali e persino quelle dei cittadini in particolare di quelli più incivili che non solo la raccolta differenziata si rifiutano di fare ed oramai non c'è più scelta ma abbandonano al primo posto possibile carichi indecenti di spazzatura e siamo nuovamente all'emergenza dunque ragione per la quale Agora che nella sua programmazione ordinaria è già in vacanza da un paio di settimane anche ieri sera è andata in onda con una puntata speciale per parlare proprio di questa nuova crisi in studio con il conduttore un parterre di ospiti di tutto riguardo intanto il presidente della commissione consigliare all'ambiente e alla sanità Virginia Farruggia del Movimento 5 Stelle quindi il vice sindaco di Gela ed assessore con delega all'ambiente Simone Siciliano ed ancora il direttore tecnico della discarica di Timpazzo ingegner Sergio Montagnino che ha spiegato in assoluta anteprima ad Agora che la discarica su ordinanza urgente del commissario straordinario del libero consorzio della ex provincia di Caltanissetta verrà riaperta nei prossimi giorni mettendo fine di fatto allo stato di emergenza presenti in studio anche il responsabile locale della ditta Tecra che si occupa del servizio di raccolta dei fiuti a Gela Andrea Dal Canton e quindi il segretario cittadino del Partito Democratico Peppe Di Cristina a completare uno studio dal quale sono emersi spunti assai interessanti e di profonda riflessione chi volesse perciò rivedere questa ennesima stuzzicante puntata della serie speciali estivi di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera su Canale 10 a partire dalle ore 21 oppure già dalle prossime ore sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10 Conclusa ieri la Summer School 2016 che si è tenuta presso la Pinacoteca Comunale nel pomeriggio sono stati presentati i progetti dei corsisti che hanno mostrato competenza ed entusiasmo Per una settimana una ventina di ragazzi laureati e laureanti studenti da tutta Italia comunque di base a Gela si sono ritrovati qui appunto per seguire le nostre lezioni sulle competenze, sulle nuove skill, sul risviluppo del territorio e oggi presenteranno le loro business ed ammaturate proprio in questi cinque giorni di lavoro Stiamo puntando a fornire gli strumenti necessari per la promozione del territorio e questo insomma è stato ben accetto dai ragazzi che hanno elaborato diverse idee progettuali che mirano al rilancio del territorio attraverso i punti di forza di questa città dalla storia, dalla cultura ai prodotti tipici gelesi diverse le manifestazioni di interesse da parte di questi ragazzi e l'augurio è che possano realizzare quanto prima questa loro idea progettuale Gela è conosciuta per quella città inquinata, per quella città dove si muore per tumore invece no, Gela ha una bellissima storia, un bellissimo territorio che può essere di nuovo riqualificato e rilanciato e riprodotto perché noi possiamo avere realmente un turismo forte con una grande economia Le idee sono i mattoni fondamentali per costruire un futuro diverso da quello che abbiamo avuto fino ad oggi e che tenga in considerazione molti più punti e attenzioni a quello che può essere un futuro sostenibile L'amministrazione appoggia questo tipo di eventi perché crediamo che solo con le buone idee è possibile riuscire ad avere un buon futuro Nuovo appuntamento al Club Vela di Gela con un evento che rientra nel programma proposto per l'estate 2016 domani alle 21 serata dedicata al medico cantautore e scrittore Salvatore Nocera Bracco che presenterà il suo ultimo romanzo Le ragioni del fuco e canterà alcuni brani del suo nuovo CD di un amante sconosciuta converserà con l'ospite il sociologo Francesco Pira ad aprire la serata il vicepresidente del Club Sergio Antonuccio l'evento è realizzato in collaborazione con la libreria di Felicia Randazzo di Via Parioli Mamma, non scegliere di vincere da sola, io e te insieme possiamo vincere questo è il titolo dell'incontro svoltosi nella sala convegni dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta voluto dagli amici di Angelica in collaborazione con l'associazione Progetto Luna al fine di lanciare un messaggio di speranza alle donne che affrontano il tumore durante la gravidanza il messaggio come massimo rappresentante dei colleghi di tutta la provincia è quello di, l'auspicio è quello di portare a non decidere obbligatoriamente quale delle due vite salvare ma noi dobbiamo votare tutti quanti, noi da medici e la società perché questa scelta non venga fatta cioè tutte e due le vite possono continuare, la donna in gravidanza con neoplasia e il bimbo che nascerà Appena un anno fa si è spenta una giovane donna che portava in sé il dolore della malattia e la felicità della maternità e così gli amici di Angelica assieme al Progetto Luna con questo incontro vogliono non soltanto ricordare ma soprattutto aiutare tutte quelle donne che combattono contro il cancro ma che allo stesso tempo desidererebbero vivere la quotidiana gioia della loro gravidanza ed essere mamme Angelica Sapienza era una donna, una madre che purtroppo ha avuto un percorso non felice perché durante la gravidanza le è stato diagnosticato un cancro e purtroppo ha avuto la meglio il cancro rispetto alla sua forza e alla sua determinazione Angelica Sapienza è una donna come tante che affrontano questo tipo di problema e lo affrontano con la consapevolezza che devono lottare per ritornare alla propria vita e per dare una madre e continuare ad essere madre scoprire di avere nel proprio ventre un germoglio di vite e sapere subito dopo di avere una malattia che forse pregiudicherà il tutto è solamente sconvolgente quindi la testimonianza di Angelica che non ce l'ha fatta ma ha portato avanti una nuova vita deve essere testimonianza per tutte le donne non solo che vivono la malattia portando in grembo un bimbo ma anche per le donne che fanno terapia e desiderano ancora diventare mamme quindi dobbiamo dare utile informazione e sostegno e gli amici di Angelica vogliono fare questo volgere a positivo questo evento negativo e dare aiuto con attività future a quanti vivono questo particolare problema è in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro sindaci e comitati referendari interessati al cambio di provincia tornano alla carica, vanno al ministero e pressano affinché la regione modifichi i confini territoriali e il servizio di apertura della prima pagina approda in consiglio comunale regolamento su come gestire la raccolta differenziata la seduta sviluppa un interessante dibattito ma se ne riparlerà lunedì il servizio è di Nello Lombardo Cordaro ironizza sulla città dei primati ed elenca nella sua rubrica settimanale le perle che fanno di Gela una delle più bistrattate della Sicilia Samuele Mammano, musica e parole lo showman gelese parla di musica e non solo confesse i suoi sogni tra cui quello di vedere la sua città decollare verso la normalità all'interno dell'attualità tanta attualità e cultura da segnalare i servizi di Lucrezia Ferro sull'esperienza del designer gelese Roberto Collodoro di ritorno dalla sua esperienza in Costa Malfitana di Maria Grazia Romano sul libro della giornalista e critica cinematografico Ornella Sgroi e di Nello Lombardo sull'iniziativa del Soroptimist che ha allestito nella sede dei Carabinieri una stanza per le donne vittime di abusi c'è poi la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con i servizi di Orazia Comando su calcio e atletica leggera infine la pagina degli annunci economici gratuiti in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che il saggio della scuola di danza dell'insegnante Claudia Trainito andrà in onda sulla nostra emittente domenica 24 luglio subito dopo il TG Silos intorno alle 20.30 ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale si celebrano oggi a Gela festeggiamenti in onore della Madonna del Monte del Carmelo vediamo si celebra oggi a Gela la festa della Madonna del Monte del Carmelo venerata nell'omonimo parrocchia il culmine delle celebrazioni arriva dopo il triduo che è stato predicato da Don Luca Crapanzano direttore del centro diocesano vocazione e vice-rettore del seminario vescovile di piazza Armerina il canto della tradizionale coroncina mariana e la celebrazione eucaristica animata dai vari gruppi presenti in parrocchia questa mattina celebrazione eucaristica con la benedizione dei bambini e nel pomeriggio in piazza Roma solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione degli ammalati e dell'unitalsi la festa si conclude con la breve processione dell'antico simulacro della Madonna e fuochi d'artificio la festa della Madonna del Monte del Carmelo a Gela registra di anno in anno una sempre maggiore partecipazione dei fedeli tanto da determinare la scelta di celebrare la Santa Messa pomeridiana nella diacente piazza affinché lo spazio possa contenere tutti coloro i quali vogliano riunirsi in preghiera è stato un anno difficile per i gelesi e nelle difficoltà la popolazione ha riscoperto il suo attaccamento alla fede religiosa partecipando con devozione alla celebrazione dei festeggiamenti in onore dei Santi venerati in città l'amministrazione comunale in concomitanza con la stagione estiva ha istituito tre corse di bus per collegare il centro urbano a Manfre ogni domenica e nei festivi oltre al servizio già attivo nei feriali da Gera verso Manfre le partenze sono previste dalla stazione centrale che è capolinea alle 8 alle 13.30 e alle 18.30 le corse di ritorno sono invece fissate da Piana Marina alle 8.45 alle 14.15 alle 19.15 nell'ambito del percorso formativo anche tu puoi salvare una vita l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia coordinata da Orazio Coccomini organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD la formazione si svolgerà sabato 30 luglio prossimo con inizio alle 9 presso l'aula di formazione della sede operativa di via Falcone in Contrada Brucazzi il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio prossimo gli interessati per informazione in iscrizioni possono contattare i numeri 093 3 91 44 19 oppure un indirizzo di posta elettronica Giubbe d'Italia Gela chiocciolotmail.com oppure la pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela si terrà nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolte volontari delle associazioni che aderiscono al coordinamento regionale sanità l'evento è organizzato da pubblica assistenza Procivis protezione civile di Gela in collaborazione con l'assessorato alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di via Ossidiana al numero 23 gli interessati possono inviare il proprio nominativo e la propria adesione entro e non oltre mercoledì 20 luglio prossimo all'indirizzo di posta elettronica p.a.procivis chiocciolatiscali.it sede dell'ufficio coordinamento provinciale di Caltanissetta presso la Procivis al corso possono partecipare lo ricordiamo tutti i soggetti che hanno già compiuto 18 anni gioia e partecipazione con queste caratteristiche si è svolto ieri il raduno dei Grest Gelesi con la benedizione del vescovo Monsignor Rosario Gisana vediamo si è svolto nel pomeriggio di ieri presso l'oratorio salesiano della parrocchia di San Domenico Savio l'edizione annuale del raduno Grest il tema proposto è in linea con quello del giubileo crescere misericordiosi come il padre fino al tardo pomeriggio giochi e attività in oratorio tra i ragazzi e gli animatori del Grest delle parrocchie cittadine presente anche il vescovo Monsignor Rosario Gisana che ha dato il suo saluto ai partecipanti all'inizio della manifestazione semplicemente un messaggio di festa si è pensato di creare un'occasione affinché tutti i ragazzi di gelo quelli che possono venire possono passare una giornata di festa infatti è tutta pensata con i giochi se una volta magari si preferiva fare delle rappresentazioni molto belle quest'anno si è preferito dare l'occasione ai ragazzi di divertirsi insieme perché spesso si vive negli stessi ambienti nelle parrocchie in tante parrocchie ma fra di loro non ci si conosce questa è l'occasione semplicemente per dire guarda vicino a te senza andare lontano c'è tanta cosa buona valorizziamo quello che c'è senza chiuderci nei nostri recinti ma il Papa lo dice sempre usciamo fuori è un'occasione per uscire fuori e ognuno conoscere le realtà è quello che fanno gli altri perché spesso nella stessa città nessuno sa quello che fa chi sta accanto a te quello che più conta non è tanto i giochi anche perché questo si fa già di fatto nelle singole parrocchie i singoli gresti hanno già la loro animazione che è abbastanza vivace ma è anche un segno bello di collaborazione di interparrocchialità insomma cioè io credo che bisognerebbe un po' puntare su questo comunque in ogni caso io credo che questi momenti siano molto importanti vanno al di là di quello che si può vedere da un punto di vista aggregativo perché lasciamo passare tra i ragazzi il senso dell'accoglienza dell'amicizia della fraternità di quella universalità che io spero anche tra l'altro che tra i grestini ci siano qualcuno che non sia anche della religione cattolica ma proprio per far capire che effettivamente questo è un movimento di solidarità di amicizia da conservare da custodire e sicuramente anche da far sì che i ragazzi possano testimoniarlo innanzitutto nei loro ambiti e poi chiaramente possono conservarlo e farlo crescere nella loro vita Non lo faccio più è la commedia che sarà portata in scena dalla compagnia teatrale Antidoto di Gela venerdì 22 luglio prossima alle ore 21 presso l'arena all'aperto del teatro Antidoto l'ingresso è di 5 euro a coppia mentre la divina commediola è lo spettacolo di Giobbe Covatta che andrà in scena sabato 30 luglio prossima alle 21 e 30 al teatro Antidoto di Gela la manifestazione rientra nel cartellone estivo dell'arena all'aperto e il biglietto costerà 10 euro è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e aver scelto anche oggi la nostra informazione a tutti voi un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti